Ringrazio Roberto De Luca per un atteggiamento di grande dignità e di grande rigore morale e politico. Avevo chiesto a Roberto di riconsiderare le sue determinazioni, essendo io fieramente convinto della sua estranetà quando gli viene attribuito da una trasmissione corsara che mostra il fianco a critiche di ogni grado e di ogni livello. Roberto ha risposto che non intendeva ritornare sui suoi passi, a questo punto dovrò immaginare di assumere determinazioni che farò nei prossimi giorni se non nelle prossime ore. Naturalmente valuterò e poi vi dirò quali sono le mie decisioni. Politica o tecnica la scelta? Vedete, nell'assessorato a bilancio le due cose in qualche modo si confondono. Noi abbiamo bisogno anche di aspetti tecnici che andranno sicuramente contemperati e considerati per quello che valgono, cioè un valore alto di competenza professionale e di capacità di specializzazione nel merito delle questioni da trattare. Approfitterà anche per un tagliando, per una messa a punto di questa macchina? No, non credo che ci siano motivi per riconsiderare tutto. Abbiamo bisogno di fare un'azione più centrata e forte e determinata sui territori, lo stiamo facendo con i lotti di manutenzione e con altre iniziative e altri spunti che metteremo in campo nel corso di questi prossimi mesi. Ma non credo che ci sia necessità di nessun rimpasso o altre cose del genere. Grazie.